Intercettati in mare su barchini straccarichi di persone, bloccati sulle spiagge dove arrivano superando ogni controllo. A Lampedusa è un'emergenza senza fine, nelle ultime ore sono 21, gli arrivi di imbarcazioni di tutti i tipi, gommoni, barconi di legno e barchini di ferro, quelli più pericolosi, basta un movimento brusco a bordo e si ribaltano. Gli ultimi a raggiungere l'isola in uno sbarco autonomo sono state 44 persone, tutti tunisini che hanno raggiunto senza difficoltà Calagalera. I carabinieri li hanno bloccati mentre a piedi cercavano di raggiungere il centro abitato. Altri arrivi direttamente sulle coste si sono registrati durante la notte tra il molo Madonnina e Cala Francese. Nell'hottospot di Contrada in Briacola, nonostante i continui trasferimenti disposti dalla prefettura di Agrigente e organizzati dalla Croce Rossa, che adesso gestisce il centro, non c'è più posto, gli ospiti sono oltre 2000, sono tornati le brande e i materassi sistemati fuori tra i viaggi. Nel pomeriggio sono già stati disposti due trasferimenti a Porta Empedocle, in tutto dovrebbero lasciare l'isola quasi 300 migranti, ma ci sono già ulteriori avvistamenti. Altre carrette del mare sono già state agganciate dai radar delle motovedette della Guardia Costiera.